buonasera spettatori e spettatrici di fuori onda io sono Susanna Basile vicepresidente della naos edizioni nonché psicologa e sessuologa clinica questa sera intervistiamo uno scrittore giovane molto interessante eh Salvatore Licari che ha scritto un libro eh su Randazzo che è la sua città di provenienza noi parliamo di città che si chiama Paolo Vagliasin di Randazzo storia territorio e cultura Salvatore oltre a essere uno scrittore è anche un produttore di vino e di olio sembra Randazzo e saluta il libro la copertina eh la copertina il libro non ve la facciamo vedere perché poi farà parte di un bellissimo articolo approfondito dove metteremo tutte quante le foto dei luoghi di cui parleremo e compresa la copertina a questo punto la copertina si parla sempre di fronte così ti sento mi raccomando ok e perché se ti devo sentire io se non ti sento io ti figura tipo agli spettatori allora detto questo la prima domanda che ci incuriosisce molto è perché eh salvo Salvatore Licari ha scritto un libro su Paolo Vagliasindi a Randazzo eh Paolo Vagliasindi eh è stato l'unico randazzese eh che da parlamentare parliamo metà ottocento quindi del regno e non della repubblica si è interessata a quella che è l'agricoltura la cultura e e l'opinione randazzese e locale eh appunto io da laureato in storia e da produttore di di vine di olio è un personaggio che che mi incuriosisce che mi è interessato eh degno di nota perché eh innanzitutto nella sua attività parlamentare ha scritto sulla filossera la filossera per per la viticoltura è un argomento delicatissimo perché ha fatto tabula rasa della maggior parte eh della viticoltura mondiale quindi interessarsi di questo significava non solo interessarsi della vita in sé ma interessarsi della di un'economia che in quel momento era cardine della di tutto il sud e prevalentemente della nostra zona quindi Randazzo Catanese ehm e via via tutta tutta la viticoltura siciliana io faccio una posso fare un appunto eh siccome chi ci chi ci segue io la so che cos'è la filossera perché ho fatto soltanto interviste ho avuto modo di conoscerla perché altrimenti non sapevo manco che cosa che cosa fosse eh sì la filossera è stato un insetto che ha che attaccava la vita e che di fatto ha distrutto tutta la viticoltura eh che conoscevamo prima quindi quando adesso si sente dire un vitigno pre filossera o piedefrango intendiamo un vitigno che si è salvato da questa eh da questa tempesta di da questa epidemia chiamiamo l'epidemia no sì sì di fatto è stata un'epidemia quindi assaggiare un vino o avere un vitigno pre filossera è pregevole perché tutto quello che conosciamo oggi è post filossera quindi non ha più di centocinquant'anni eh in quel momento ho imparato ho imparato anche questo che praticamente c'è stato un impianto della vita con la vita americana giusto per poter perché la filossera colpiva eh le radici nostre quindi europee e mentre colpiva la pianta fuoriterra americana quello che siamo riusciti a fare è prendere la radice americana e né stare con quella europea quindi siamo riusciti a creare questa sorta di eh ibrido che non veniva colpito dalla filossera così facendo siamo riusciti a rincominciare e ripartire con con la viticoltura eh interessarsi di questa cosa nell'ottocento era interessarsi ai problemi reali di un'economia che una città aveva e e che poi di riflesso non si sapeva ancora in quel momento ma che poi di riflesso ha colpito tutto il mondo di fatto eh l'interesse che va verso l'agricoltura verso la eh la cultura eh che dell'erbo officinale la cultura della proprio dell'ambiente della natura in sé era era un po' è stato un po' di famiglia perché lo zio Gustavo Magliasindi era tra i soci chiamiamoli così che hanno poi eh finanziato e creato quello che oggi conosciamo come orto botanico di Catania quindi la botanica è sempre stato un interesse di questa famiglia nobile del paese attiva anche politicamente sì la mia scelta di scrivere è stata proprio una serie di interessi personali che si coniugavano e convuliva all'interno ehm verso questa famiglia e questo personaggio nello specifico che non ha avuto nemmeno una vita molto lunga però ha avuto molti figli e ha avuto molto molto da scrivere questo qua è stato proprio il 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 perché del del perché scrivere per quanto riguarda la copertina che prima dicevamo la lasciamo misteriosa di fatto non non è una copertina d'impatto perché non è quello che non è l'interesse quale fare di fatto riprende una vita un uvo un grappolo d'uva su uno sfondo che è il randazzo e quindi proprio c'entra direttamente quello che è l'interesse mio nel compito di questo personaggio di questo libro ma infatti praticamente vedo che all'inizio hai parlato dei periodi storici no da questo punto di vista cioè perché randazzo come nasce di questo ne possiamo parlare pure perché chiaro il titolo predominante sul discorso di Paolo Vagliasindi no e quindi tu è come in realtà ehm ogni volta che mi capita perché ho avuto il nonno di mio nonno che si chiamava Basile Gioacchino Basile di cui a Catania c'è una via che si chiama solo via Basile ma in realtà è lui perché poi c'era la sua villa che era un agronomo un etnologo o un un enologo e si occupava eh di delle bombe quelle era stato il direttore preside per tanti anni della scuola Filippo Eredia che è una scuola di agronomia di Catania antica ok e lui è come se in qualche modo se lo fossero dimenticati no? Cioè capita che ci sono quelli che per esempio vengono valutati no? Parlo anche come scrittori perché sono scoprendo tante cose come per storia come scrittori sì bravo come scrittori nostri quindi in qualche modo tu è come se eh stessi dando come se c'è una nuova vita un lustro no? A Paolo Vagliasindi e anche se poi parli no? Della sua famiglia eh di tutto ciò che ha a che fare ecco insomma ne parli anche come studioso una forma di archeologia perché mi pare che tu hai parlato anche delle scoperte delle ricerche che lui che loro avevano fatto no? Esatto esatto ma infatti quello che dici tu è esattamente rispecchi esattamente quello che voglio dire nel libro nel senso Paolo Vagliasindi sì è una persona in carne d'ossa ma di fatto è stata la sintesi dell'interesse della cultura e della della promozione della divulgazione che io credo meriti una città come Randazzo e appunto per questo museo che nasce un po' per caso adesso si chiama Museo Carcere ovvero è un castello carcere dove viene adattato a museo dove eh vengono esposte tutto ciò che ha trovato Paolo Vagliasindi in realtà l'ha trovato la condadina che lavorava per Paolo Vagliasindi nella sua vigna e quindi lui è un un imprenditore e un viticoltore ha la vigna la condadina trova un anello da quest'anello si fanno degli scavi e si recuperano un sacco di eh oggetti che molto probabilmente apparteneva a una necropoli sotto il vitigno di Vagliasindi che ci ha permesso oggi di capire eh cosa succedeva a Randazzo qualche secolo fa perché parliamo di parliamo di molti secoli ehm un millennio quasi si è trovato anche un vaso molto importante che si è riuscito a ricostruire eh dove si si evince che già c'è una conservazione dei vini una conservazione degli oli questa cosa è importante perché perché eh Paolo Vagliasindi quando ha trovato l'anello quando la condadina trovò l'anello non ci pensò due volte a sacrificare il vitigno o il proprio terreno a favore di una scoperta epocale sia per Randazzo che per la cultura siciliana perché ehm non è cioè non è così non è così scontato che una persona che fa vino preferisce lasciamo tutto com'è e continua a fare vino invece lui c'è stata poi la sua tendenza di Palermo cioè lui proprio si è mossa affinché venisse valorizzato tutto questo tesoro che è che è scoperto e che esisteva e che preesisteva nei suoi nei propri terreni. Parliamo di questo perché eh allora noi non diamo per scontato questo discorso qua di Randazzo ma non dobbiamo nemmeno dare per scontato che chi ci segue conosca Randazzo nel senso che per quanto possono essere siciliani non è non è così un dato di fatto no che tu sai dove Randazzo come è situato allora innanzitutto io sempre a livello così di ehm di pur parler ti posso dire che ogni volta che sono stata a Randazzo quello che mi ha sempre stupito è stata la ehm la bellezza e la grandezza delle chiese delle mura delle strade no? Cioè a me è capitato tanti anni fa di fare anche la la danzatrice del ventre di strada che ho fatto spettacoli durante diciamo delle feste di Randazzo e mi ricordo di avere ballato anche scalza per le strade quelle del centro storico e quindi quello che mi ha fatto sempre impressione poi dopo piano piano l'ho capito no? Nel senso che esisteva un un perché per cui un paese in questo caso paese provincia cittadina che si trova in una zona interna no? Rispetto alla provincia catanese avesse queste vestigia così gigantesche così importanti cioè per certi versi è perché non abbiamo il barocco a Catania ma se non avessimo il barocco Randazzo eh secondo me è più rappresentativa no? Da questo punto di vista perché una cittadina che oggi si trova in una zona non più centrale ma alle pendici fondamentalmente dell'Etna aveva questa grande importanza nel corso dei secoli nel corso dei secoli la centralità era proprio le pendici dell'Etna nel senso Randazzo vanda una posizione strategica proprio dal punto di vista eh geografico e incastonata tra tre grandi valli che sono le valle dell'Etna la valle Alcantara e la valle dei Nebrodi quindi Randazzo doveva essere obbligatoriamente toccato per chi da Messina scendeva scendeva verso Siracusa doveva attraversare l'Alcantara veniva obbligatoriamente toccato da chi da Messina andava a Palermo e non lo faceva per via mare ma lo faceva dall'entroterra Randazzo è ricca perché ognuno ogni ovviamente non è che queste tratte le facevano i contadini la faceva sempre la classe ehm baronale o comunque la classe monarchica c'è stato anche c'è stato anche Carlo Quinto che eh che abbiamo avuto l'onore di di essere residente qui per qualche tempo dove ha eh incoronato diciamo così cavalieri tutti i randazzesi eh quindi tutta questo questo flusso chiamiamolo un po' migratorio un po' di passaggio eh ognuno lasciava un contributo non solo dal punto di vista come beni perché magari chi lasciava il calice chi lasciava il quadro chi ma anche dal punto di vista culturale perché scriveva di Randazzo eh lasciava un cenno su Randazzo questo ha reso Randazzo sempre una città più ricca che sì come dici tu siamo le pendici siamo comunque un paese oggi anche se la come come me tu la chiami città perché è una città e ha delle strade molto grandi e andando una città nera è una città nera perché è costruita ovviamente con la lava quindi eh parliamo di città nera questa questa maestosità ce l'ha appunto perché è stata e nasce come città quindi l'esigenza di strade grandi di eh di rappresentazioni anche ecclesiastiche quindi le chiesi sono enormi e e la particolarità di Randazzo è che è chiamata la la città delle cento chiese in quanto eh negli anni nei secoli è stato fulcro anche ecclesiastico quindi ognuno aveva ogni comunità aveva il pregio di avere la propria chiesa anche i private erano delle chiese infatti tutte le chiese di Randazzo sono proprio geograficamente in un senso quelle che che diremmo oggi pubbliche le chiese private eh sono esattamente eh perpendicolari a queste chiese quindi troviamo cito Santa Nicola che è una chiesa molto importante eh che che pregia davanti una statua del Piracmone che rappresenta le tre culture storiche di Randazzo accanto accanto la chiesa di Santa Nicola in maniera eh perpendicolare abbiamo via degli uffizi che costeggia una chiesa che che all'epoca era privata che appunto guarda guarda Santa Nicola quindi abbiamo una chiesa pubblica chiamiamola così gigantesca un campanile enorme tra i campanili più belli di di Sicilia e d'Italia insieme a San Martino e accanto abbiamo questa chiesa privata chiamiamola così che oggi ovviamente oggi è stata consacrata poi sconsacrata ci si fanno anche delle mostre che che appunto era privata quindi non solo le cento chiese per per il per il popolo ma anche delle chiese per la nobilità quindi poi dicevamo parlando di strade c'era la 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 strada veniva chiamata strada reggia giusto se non sbaglio la definizione per cui arresta ancora questa strada in qualche modo no perché c'è questa sorta di ritorno no a fare le vacanze a piedi no da questo punto di vista una via francigena chiamiamola così no della Sicilia quindi che passava per Randazzo no? Sì passava per Randazzo e ed oggi ancora abbiamo i corsi il corso il corso Umberto che è il corso principale dove si sviluppa diciamo tutta la vita randazzese e che va a toccare le tre chiese che come diciamo prima le tre popolazioni Santa Maria Santa Nicola e San Martino sono all'interno del della città e all'interno delle mura perché Randazzo in quanto città medievale era chiusa da delle mura in appunto in pietra lavica e oltre a questa strada ci sono tante altre strade che andavano a delineare man mano anche la vita sociale la classe sociale della di Randazzo tornando al nostro personaggio Paolo Vajasindi in qualche modo guardava alla classe d'appartenenza ma anche anche al popolo in quanto nell'ottocento c'era una forma di votazione non era ancora aperta a tutti come non c'era un suffraggio come come oggi però comunque potevano votare i nobili e alcune classi sotto pagamento entriamo poi in un altro dettaglio però già comunque si la classe nobile guardava anche la classe alla classe condadina e altre classi sociali ma senti un'altra cosa ti volevo chiedere tu parli di uno dei miei re preferiti che Ferdinando questo no primo quello la terzo cioè Ferdinando Federico terzo d'Aragona eh che era anche invece la re di Sicilia secondo Federico secondo no che è diverso da quello perché sono interessata perché la quello che è la moglie di Eleonora D'Angio giusto se non sbaglio giusto qui abbiamo fatto una ricerca insieme a una mia amica che si chiama Graziella Milazzo e che ha utilizzato e ha fatto delle ricerche che sono state portate avanti attraverso anche dei bei libri delle manifestazioni per quanto riguarda l'argimusco sì no l'argimusco che si trova con la specie di Stonehenge che si trova a Montalbano e l'icona no a paesi che oggi tu dici Montalbano e l'icona sta là Randazzo sta là invece sono sicura che come eh com come parlavamo prima come strade legge e se se seguissimo questa diciamo di questi re no di questi re che ne sapevano molto di più di quando ne sappiamo noi assolutamente no cioè diciamo dei re ehm come che si dice che abbiamo ereditato cioè nel senso che non nascevano sicuramente qua erano di passaggio qua però se non ci fossero stati loro come Paolo Vagliasindi non avremmo avuto queste bellezze storiche architettoniche no cosa avvicinavano come dici tu anche di passaggio come come appunto diciamo poc'anzia anche chi era di passaggio riusciva a valorizzare eh il territorio come dici tu Randazzo e Montalbano sicuramente nel cinquecento nel mille cinquecento non si prendeva l'autostrada per andare a Palermo si passava da qua passando non erano dei viaggi frenetici come oggi erano dei viaggi eh molto più lenti con molto più tempo che davano anche la possibilità di contemplare di capire e di conoscere anche i paesi e città che in maniera così apparentemente erano solo di passaggio ma di fatto non lo erano da Aragona di Aragona a Randazzo appunto in Aragona ci sono dei castelli ci sono delle che chiamiamo proprio d'Aragona che si chiamano d'Aragona quindi per dire come in questo territorio eh le diverse chiamiamole così potenze le diverse forze eh eh sociali economiche e politiche eh guardavano a Randazzo e guardano a Randazzo. Quindi questo comunque erano sempre legati anche al discorso del vino e dell'olio che non ci dimentichiamo erano comunque facevano parte sia della ricchezza dei condadini no? e sia della ricchezza dei in questo caso dei nobili no? Da questo punto di vista. Economica economica ma ma c'era anche il sud in generale. Un'esportazione da parte dei randazzesi no? Che esportavano allora delle delle specificità che tu ti ricordi che hai studiato da questo punto di vista. Diciamo che eh Randazzo è stato il bosco chiamiamolo così quindi il fornitore di legno di tutta Italia. Parliamo sempre prima della dell'unità d'Italia. Randazzo vandava un bosco con un legno pregiatissimo che si si inviava o si veniva a prendere a Messina, a Palermo e addirittura a Genova soprattutto per la costruzione anche di barche. Questo qua io nel libro lo dico e metto proprio dei dati. Purtroppo non abbiamo più questo questo pregio. Sono cambiate anche le dinamiche, sono cambiate anche le esigenze. Eh però randazzo ma randazzo insieme tutto il sud soprattutto prima dell'unità d'Italia vandava un'esportazione verso l'Italia che conosciamo oggi e verso il mondo che che purtroppo oggi non abbiamo più. Non solo come randazzo non solo come legno non solo come prodotti vino e olio ma ma un po' in generale. Eh se ricordiamo il il grano se ricordiamo la seta. La seta. La seta si faceva in Sicilia non si faceva. Sì 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 questa cosa lo questa cosa me l'hanno raccontata io abito al Castellussino no in questa zona qua e praticamente qui c'è proprio la via della 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 seta dove praticamente il mi hanno raccontato che c'erano questi ehm queste fabbriche in città dei baghi da seta e i gelsi dove oggi c'è la piena di Catania c'erano i eh i gelsi da da seta che poi con l'unità d'Italia sono stati completamente stirpati e al posto di questi è stata messa la coltivazione di piante di cotone perché il cotone serviva al nord e Catania esportava seta grezza addirittura anche in Giappone a parte a parte l'Inghilterra cioè lasciamo lasciamo per quella ma arrivare al Giappone quello sì ma ma con l'unità d'Italia eh proprio sono stati di forza annendati estirpati non solo le le piante ma proprio i telai cioè si è si è deciso di togliere tutti i telai e portarli e portarli e portarli altrove quindi abbiamo perso proprio un settore in maniera abbiamo perso c'è stato tolto un settore proprio in maniera netta quindi non solo dalla materia prima ma proprio i telai non esistono non esiste dopo l'unità d'Italia non esistevano più telai al sud quindi apriamo apriamo anche un discorso sulla eh sullo scambio che c'è stata l'unità d'Italia certo ma noi noi non lo diciamo per lamentarci non è questo non è lamentare noi stiamo descrivendo proprio dei fatti storie è un discorso un discorso di memoria anche un discorso di memoria per i giovani perché spesso e volentieri no ci si eh ma infatti poi è stato quello quello che è passato con la famosa questione meridionale negli anni quaranta cinquanta del millenovecento che noi eravamo i sottosivilluppati quelli chiaramente messi nella condizione poi di emigrare no di di i terroni che dovevano salire sopra e quindi sono siamo quelli che siamo stati sempre a carico loro quando invece era esattamente il contrario allora ancora il il contrario nel senso se noi siamo sudditi siamo sudditi di noi stessi e della nostra mentalità perché basta ricordare che all'inizio degli ottocento i veneti emigravano in Sicilia e venivano a fare i contadini e ad apprendere le culture vitivinicole e oggi la viticultura veneta nel mondo vanda l'Italia cioè nel senso l'Italia è riconosciuta molto spesso nella viticultura veneta non che questo qua non mi stia bene o non mi piace io sono contento che Veneto porta la nazione avanti però lo porta avanti a scapito di di un insegnamento che hanno fatto qua e di una politica che ha tendato di togliere noi e noi indendo tutto il resto d'Italia nel Veneto ma il sud in generale a favore di di altre di altre regioni che oggi le identifichiamo nel nord e questo non è una lamendera questo qua è una presa di coscienza per noi e per per i giovani e quando tu dici noi siamo quelli a carico di fatto lo siamo nemmeno ora a carico perché ora noi cioè noi compriamo dal nord quello che loro producono dai nostri prodotti quello che ci mettono le etichette sopra cioè loro comprano le etichette e ce li rivendono fondamentalmente scrivere un libro come questo ci deve fare capire quando noi siamo forti di noi stessi ma non perché ci sia una gara ma perché noi dobbiamo cercare di capire e cercare di metterci in destra con quel quell'orgoglio che molto spesso identifica anche il siciliano e il meridionale di dire ma guarda che io qui posso fare bene da solo e posso essere insieme agli altri perché poi siamo tutti siamo tutti cittadini del mondo insieme a altre portare il mio contributo invece no come diciamo a catania e curnute abbastinati ci hanno tolto tutto e sparti dicono che ci mantengono esattamente il contrario ma infatti secondo me una delle cose belle che sta si sta creando sull'etna non è l'argomento diciamo della 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 del nostro fuori onda no perché il libro però noi ce lo mettiamo lo stesso diventa spunto il libro ma infatti perché c'è questo discorso del del ritorno del io non vado via no cioè eh eh è una contrattendenza meravigliosa no che i nostri cervelli e le braccia insieme perché una volta si diceva braccia rubate all'agricoltura no un'altra tu dicevi in quella mano c'era quella di cervelli invece noi per esempio abbiamo di fronte in questo caso anche un Salvatore Ligari che è laureato di storia che scrive un libro e nello stesso tempo sono anche braccia votate all'agricoltura cioè c'hai tutte tutte le cose le prendo ma che vuol dire che si può fare allora no non necessariamente no cioè io ho deciso di 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 fare questo è anche vero che non si capisce se ci vuole più coraggio a partire o a restare perché le condizioni proprio in Italia sono condizioni che non favoriscono l'imprenditoria che non favoriscono gli investimenti in Italia al sud peggio ancora nei piccoli paesi nei piccoli centri del sud di che stiamo parlando e ovviamente sono una goccia in mezzo a tantissimi altri l'invito è chiaro che l'invito a rimanere è un invito e un atto di coraggio perché immagina io laureate storia laureate scienze politiche materie umanistiche che in Italia in generale non sono molto gratificate cioè non è una professione vera e propria si deve cercare di ingatanare nei vari settori terziari nei vari nelle varie istituzioni e quindi partire sarebbe sarebbe più plausibile io ho fatto altro a me la laurea mi è servita per capire e per valorizzare quello che in realtà il nostro territorio dava io dopo laureato con mio padre abbiamo visto i vitigni le campagne che avevano che abbiamo ereditato un po' dai genitori dai nonni materni un po' paterni e la laurea mi è servita a prendere consapevolezza che quello era un tesoro che potevamo che potevamo portare avanti quindi ho iniziato con mille bottiglie di vino e 600 litri d'olio ora siamo sulle 6 mila bottiglie di vino e 10 mila di olio questo per dire che i nostri prodotti soprattutto quelli agroalimentari sono prodotti di punta perché noi non siamo una non siamo industriali siamo agricoltori e quando tu dici terroni terroni è in accezione positiva cioè terroni nel senso che siamo figli della terra terroni nel senso che la nostra terra diventa nostra ricchezza quindi rimanere con sacrifici rimanere con molte perplessità e si può fare spero che lasceremo non lasceremo questo che abbiamo in prestito dei nostri figli no questo territorio che abbiamo in prestito dei nostri figli io spero che chi verrà e chi e chi ora non è costretto ad andare io spero che riusciamo ad arrivare ad una ad una situazione che permette di scegliere se rimanere o andare e non di costringere ad andare Paolo Vajasindi ritornando noi stiamo rimbalzando tra hai detto una cosa bellissima hai fatto venire Paolo Vajasindi lo chiamo anche perché come randazzese è stato l'unico che ha avuto diciamo successo politicamente cioè è stato l'unico randazzese che è stato parlamentare noi vendiamo molti bravi politici che purtroppo non hanno avuto la fortuna la l'ambizione o comunque le possibilità di essere rappresentanti randazzesi al libro nazionale ma purtroppo solamente locale regionale e io mi auguro che molti randazzesi possono avere con questa nostra mentalità la possibilità economica politica di portare avanti un'idea un ideale e un'evoluzione di randazzo ma quando parliamo di randazzo non è un autoreferenzialismo randazzo ienden del sud come città del sud come tutte le città come tutti i paesi e come tutto il sud nel mondo ci dobbiamo ricordare che noi siamo al centro del mediterraneo il mediterraneo al centro del mondo noi siamo figli dei greci siamo figli della cultura tutto quello che conosciamo oggi è nato in queste terre quindi se ci ricordiamo questo il nostro orgoglio ci dice che noi meritiamo qualche qualche gradino in più in questa scala mondiale allora su questi sono perfettamente d'accordo c'è stato un altro un altro libro che mi ha colpito diversi anni fa che si chiama ebrei arabi per lingua ebrei per religione questo è ribresh che è un francese che ha stampato comunque con una casa editrice nostra messinese ha raccolto dall'anno mille mille cento fino al mille cinquecento un libro dove ci sono soltanto è un libro mastro fondamentalmente quindi in qualche modo legato al tuo libro dove raccontava che sia i siciliani del nord i palermitani sia i siciliani del sud quindi la nostra zona e la zona orientale avevano dei traffici chiamiamoli così marittimi ehm terra e terreni eccetera con tutto quanto il mediterraneo c'era il contrario no? Eh per esempio mi ricordo bene questa cosa che Palermo comprava il cotone in questo caso le le lenzuola del cotone dell'Egitto e quindi spesso e volentieri gli imprenditori palermitani sposavano donne egiziane donne siriane io questo collegamento l'avevo fatto per la danza del ventre in Sicilia no? Per per capire come ci poteva arrivare in qualche modo no? Da questo punto di vista cominciare a fare questi studi parlo delle danze quelle proprio della fertilità ecco mettiamola così in questi termini quindi con questo libro mi si apri un mondo perché c'è tutto questo periodo qua come dici tu no? Questi trecento quattrocento cinquecento anni comunque si affina all'unità d'Italia ma proprio in quello in quel periodo lì dove noi avevamo ingresso di greci greci parlo tutto ciò che era l'Oriente gli indiani cioè quando tu pensi praticamente le carovane tutti tutto ciò che erano le spezie cioè la Sicilia da questo punto di vista era veramente un crocevia cioè no 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 assolutamente i fiumi che erano navigabili cioè quando ho scoperto per esempio che i fiumi erano navigabili e quindi c'erano anche i porti fluviali c'è una cosa che praticamente mi ha fatto imbazzire non riusciamo ad immaginare quindi non è che non è che praticamente il legname come dici tu veniva portato soltanto al dorso del mulo probabilmente scendevano trovavano dei corsi d'acqua e ci arrivavano a Messina anche perché rimanendo più vicini e più a conoscenza anche di chi ci ascolta il Florio che oggi è una delle cantine più importanti di Sicilia e nel mondo il Florio non sono altro che dei calabresi che sono venuti in Sicilia in Sicilia occidentale in questo caso nel palermitano ma loro erano degli imprenditori non erano non facevano vino e basta loro avevano delle navi avevano circa 900 navi cioè se hanno le navi vuol dire che esportano se esportano vuol dire che sono conosciuti conoscitori di altre culture di altre città avevano degli alberghi cioè il Florio sono stati una famiglia importante a livello nazionale che ha investito in Sicilia quando il Marsala stesso per rimanere con i Florio per rimanere in Sicilia per rimanere con il vino il Marsala non è altro che un vino che noi facevamo in un determinato modo che poi in un viaggio che fa un commerciante inglese capisce che aggiungendo del dello zucchero per mantenerlo nelle navi immaginiamo che il Marsala per Palermo arrivare in Inghilterra ci metteva dei mesi quindi come manteniamo questo vino mettiamo lo zucchero mettendo lo zucchero quest'ossidazione queste navi fuori queste botti fuori eh in Inghilterra arriva un altro vino che piace tantissimo oggi conosciamo questo metodo però nasce sempre da una famiglia di meridionali che eh investe sul meridione guardando il mondo e che crea uno con uno chiamiamolo uno scambio di culture io gli metto il vino tu gli hai messo questo viaggio abbiamo capito che insieme nel senso che queste due cose hanno portato un prodotto diverso e nasce Marsala quindi per dire come il territorio e questo e questa multiculturalità e a volte anche per caso riesce a dare delle dei vandi che oggi eh conosciamo ma infatti tu parli di stratificazione da questo punto di vista cioè come ogni strato è leggibile a Randazzo no no tutti i vari strati della della Sicilia che magari per esempio in una città come Catania tranne per qualche anche perché non abbiamo eh tranne diciamo per alcune alcune visualizzazioni da questo punto di vista a Randazzo invece essendo una cittadina più raccolta e sono più visibili questi passaggi no e quindi poi ogni civiltà ha lasciato la sua la sua la sua civiltà considerando che eh oggi la chiameremo una città multiculturale certo Randazzo coesistevano latini greci e lombardi questa dei lombardi è bellissima questa dei lombardi sì addirittura addirittura avevano cioè parlavano ognuno la propria lingua voi immaginate Randazzo con tre quartieri chiamiamoli quartieri oggi dove ci sono tre popolazioni tre popolazioni che parlano ognuno la propria lingua ognuno la propria cultura ognuno prega quando vuole e che eh prego dico prega perché non ci dimentichiamo mai il il fattore ecclesiastico del tempo che era molto molto importante eh che inderegiscono che coesistono prima abbiamo citato il peracchimone il peracchimone non è altro che questa statua di un gigante che nelle leggende nella nel 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 cercare come nasce Randazzo che ancora non è molto ben definito e perché si chiama Randazzo eh è rappresentato da un uomo nudo con un'aquila un leone e un serpente il leone ai piedi sono i latini il l'aquila alla testa sono i greci e è un serpente che che lo avvolge sono i lombardi quindi c'era proprio anche una simbologia che questi tre animali che simboleggiano le tre culture unite in questo peracchimone che potrebbe simboleggiare proprio Randazzo quindi un gigante maestoso che accoglie questi animali che comunque rappresenta questi animali eh con uno sguardo eh in avanti quindi abbiamo questo questa statua imponente che guarda avanti quindi quando diciamo mento alto e sguardo in avanti quindi proprio con questa fierezza eh secondo me è da leggere in questi termini perché sono questi termini che dettava che dettava Randazzo allora e quindi che si incarnavano nella figura di Paolo Vagliasindi così finiamo no arriviamo a una fine così in questo Paolo Vagliasindi che una volta tanto abbiamo avuto un politico che eh si eh come si dice politico nobile proprietario di viti proprietario di olivi e anche che portava avanti il discorso dell'archeologia del della suo stesso posto da questo punto di vista che in qualche modo eh questo anche per dare come si dice lustro no sempre con i contadini la nobiltà la nobiltà i nobili che sfruttano i contadini una volta tanto abbiamo avuto un Paolo Vagliasindi che con tutta la sua famiglia si sono anche occupati dello studio del proprio territorio no da questo punto di vista cosa che non era così scondata assolutamente è stato è stato un palese interesse pubblico a favore di un paese eh di un interesse privato cioè lui ha deciso di eh proprio attivare de degli scavi quando hanno trovato queste questa archeologia proprio con la sovrintendenza di di Palermo quindi proprio l'interesse nel capire nel studiare nel certificare quello che c'era Randazzo quindi con questo noi con questo noi arriviamo a una conclusione a proposito sempre del libro quindi che poi sarà presentato quindi questo poi eh lo inseriremo nella nell'articolo la 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 data proprio il posto dove andremo a presentare questo libro e con questo salutiamo eh il nostro Salvatore Licari grazie grazie a te e salutiamo anche i nostri spettatori e spettatrici che ci hanno seguito eh viva Randazzo facciamo questa cosa qua sempre grazie